Amici del software libero open source, benvenuti in questa nuova video anteprima di Layout Switcher, il tool sviluppato in seno a Manjaro che consente sulla edizione Gnome della distro di avere dei preset per cambiare il volo, l'aspetto dell'edizione Gnome di Manjaro, con una serie di layout che si ispirano ad altri desktop environment e sono molto carini. Vi ne avevo parlato qualche settimana fa, vi avevo fatto un aggiornamento su Layout Switcher in concomitanza del rilascio della nuova versione, del nuovo layout chiamato Unity. Vediamo quali sono i layout attualmente presenti, vediamo il nuovo layout Unity e vediamo di fare una rapida panoramica del tool. Iniziamo con il primo layout, quello chiamato Manjaro, che è il layout predefinito, che consiste in un pannello superiore al Gnome, con gli indicatori, fortunatamente, e una dock laterale sempre visibile, quindi con le scorciatoie, in modo tale da avere le scorciatoie a file manager, a terminale e quant'altro, o tutte quelle scorciatoie che noi vogliamo aggiungere, quindi liberamente personalizzabili, c'è anche una scorciatoia al cestino, come potete vedere è impostato con la scomparsa, se noi ci passiamo sopra con una finestra, e anche se mettiamo a tutto schermo. Abbiamo poi il layout chiamato tradizionale, che altro non è che un layout alla Windows 10, passate a mi termine, perché c'è un pannello inferiore, con un menu, tramite il quale è possibile cercare varie applicazioni, quindi c'è anche presente tutti i programmi, quindi divisi per categorie. Abbiamo poi le icone pinnate sotto, dei preferiti, se passiamo con il mouse su una, qualsiasi delle finestre aperte, ci viene mostrata l'anteprima, così come su Windows 10, ma anche su altri desktop e variament Linux, vabbè, io chiamo la Windows 10 perché il layout è ispirato fortemente a quello di Windows 10, perché vedete abbiamo anche la presenza degli indicatori in basso a destra e del tasto Mostra desktop, come siamo abituati su Windows. Abbiamo poi i layout Unity, che è l'ultimo layout che è stato aggiunto. Applicando potete vedere che abbiamo tutta la serie degli indicatori e della data che viene spostata nella parte in alto a destra, così come era sul compianto Unity. i pulsanti minimizza, massimizza e chiudi, restano sulla destra, non è stata fatta nessuna modifica a riguardo, però quando viene massimizzata una finestra vengono integrati all'interno del pannello superiore, adesso vediamo anche nel caso del file manager, se vedete qualche artefatto è lo screen recorder che lo utilizzo, i pulsanti, vedete, appaiono qui dentro, quindi è possibile chiudere. E che dire, il pannello, cioè un pannello laterale, quindi una dock laterale, diciamo così, sempre visibile, con i preferiti, se clicchiamo su Mostra applicazioni, vengono mostrate le applicazioni, così come è normale che sia, se clicchiamo sul roghetto che è in alto a sinistra di Mangiaro, abbiamo la possibilità di ricercare un'applicazione che è solo, simple scan, vedete, acquisizione, abbiamo sempre in questo menu la possibilità di avere le scorciatoie, scorciatoie ad applicazioni, ma anche impostazioni di sistema, tipo appunto le impostazioni di sistema che possiamo aprire direttamente da qui, abbiamo poi in basso invece scorciatoie che riguardano il file manager, quindi che ne so, la cartella home, la cartella documenti, togliamo dalla massimizzata, che è bruttissima, e poi i soliti pulsanti per spegnere il computer, bloccare schermo e terminare la sessione. Abbiamo poi il layout modern, che è un layout che si ispira a macOS, quindi con pulsanti di chiusura, minimizza e massimizza che vengono spostati, anche in questo caso, alla macOS sulla sinistra, come potete vedere, se massimizziamo i pulsanti, vanno a integrarsi nel pannello superiore. chiudiamo, la dock è in basso alla macOS, quindi con il mostro applicazioni, gli angoli sono attivi, quindi è possibile spostarsi a destra e sinistra, ripeto, se vedete artefatti non preoccupatevi, ma è lo script recorder che fa i capricci, abbiamo poi il layout gnome, che è quello di gnome, quindi il predefinito di gnome, quindi sapete, lo conoscete, siete utenti di gnome, e infine abbiamo il layout mate o mate, che consiste in due pannelli, inferiore e superiore, con gli 8 corner, non vengono disabilitati, quindi questo secondo me è una sesseria, io procederei nel layout mate, avere la scomparsa degli 8 corner, con link alle applicazioni, con un menu per applicazioni, un menu per posizioni, dove potete avere i collegamenti rapido le varie cartelle, le varie cartelle, se massimizzate i controlli restano nella finestra, quindi non si integrano nel pannello, abbiamo poi sopra la presenza delle scorciatori che possiamo aggiungere, gli indicatori, la data e tutto il resto vengono spostati sulla destra, in basso abbiamo, qui è cliccabile, potete vedere le schede aperte, quindi, che possiamo gestire anche da qui, c'è da dire che questo qua non è un layout innovativo, non è chiamato mate, ma in realtà è quello che era presente nella sessione, quella classica, che era possibile installare sulle prime edizioni di gnome, ma mi sembra che è ancora installabile, se non ricordo male, quindi, nulla di nuovo, però è presente. Se poi vogliamo andare a personalizzare ulteriormente le impostazioni, andato su settings, è possibile avere un collegamento rapido agli sfondi dinamici, qualora volessimo aggiungerli, collegamento rapido a gnome tweak tool, e colgo l'occasione per andare a vedere anche le estensioni che trovate, come potete vedere, è tutto un gioco di estensioni, tutto quello che viene fatto, così come appunto è la stessa cosa che fa Ubuntu con il suo layout, solo che Ubuntu si è forcato alcune delle estensioni che sono presenti su Mangiaro Gnome, che sono liberamente installabili, sono presenti sul sito dedicato alle estensioni di Gnome, e se le è forcate e personalizzate, se le mantiene, mentre il team di Mangiaro le è installata e basta, quindi non fa nessuna personalizzazione, non fa nessun fork, link rapido agli account online, possibilità di rimuovere i brand di Mangiaro, non lo faccio perché sennò poi faccio un mezzo casino adesso, quindi rimuovere le personalizzazioni di Mangiaro, possibilità di spegnere o accendere le icone sul desktop, disattivare o meno la 3D sistema, e la possibilità di attivare o meno il tema scuro automatico, che dire, è interessante questa possibilità che viene offerta dal team di Mangiaro, non è una novità di per sé, perché queste soluzioni le avevamo già viste da altre parti, però è comunque una cosa che fa piacere avere un tour, che fa piacere avere su questa distribuzione, fa piacere averlo preinstallato, quindi lo troverete preinstallato sulla prossima edizione stabile di Mangiaro. Quella che vedete adesso è la versione di sviluppo basata sul canale stabile che ho scaricato quest'oggi. Bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo in un prossimo video recensione, in una prossima puntata del podcast o sulle pagine di Marcos Box. Ciao ciao!